un consiglio di lettura per chi ancora credesse che la narrativa gialla sia riduttiva come genere rispetto alla letteratura c'è un romanzo giallo a modo suo ma no è un giallo vero un poliziesco di Friedrich Dürermatt si chiama La promessa compie 60 anni Friedrich Dürermatt scrisse questo romanzo e lo pubblicò nel 1958 Dürermatt un grande grandissimo scrittore svizzero in italiano questo romanzo è edito da Feltrinelli ma anche da altri editori è un romanzo giallo che in qualche modo è anche un controcanto perché smonta i meccanismi troppo perfetti della logica deduttiva dei polizieschi c'è un delitto è ferato c'è un commissario svizzero tedesco siamo nella campagna della svizzera tedesca in un paesaggio quasi sempre desolato ben composto ma anche un po' triste questo commissario intelligente perché i commissari di polizia anche se come questo sono un po' sfiduciati ma sono anche intelligenti quando lo sono Dürermatt ha una frase bellissima che dice niente è più crudele di un genio quando inciampa in qualche cosa di idiota questo commissario ha promesso ai parenti di una piccola vittima di trovare l'assassino ma sarà una storia lunga e dentro questa storia si smontano le logiche troppo facili del romanzo giallo è un romanzo di amarezza è un romanzo di grande verità sul male in azione c'è ironia beffarda c'è tristezza è un classico la promessa di di frederich durenmatt